Siamo in diretta, non ti sento, adesso sì, non ti sentivo perché non stavi parlando ti faccio io, non ti preoccupare che ti faccio io, vediamo se ci siamo, io intanto ti condivido sul tuo profilo. Sì, sì, così ho tutta la gente di Gimnauser. Perfetto, dovremmo anche essere, ecco ci siamo, perfetto, ci siamo in diretta e adesso siamo qui con Francesca che ha due spettacoli, una di fianco all'altro. Ciao tutti. Vai. Allora oggi siamo qui, abbiamo Francesca che è uno schnauzer nano bianco che ci farà da modella, Francesca fatti vedere, e poi abbiamo un piccolo aspite che sto registrando vicino alla nursery e lei è una piccola principessa figlia della mia Queen. Che meraviglia. Sì, ha 24 giorni, 22 giorni scusami. Spettacolo. Abbiamo un po' di amici? Sì, sì, sì. Perfetto. Vai Francesca, cosa ci racconti oggi? Allora adesso poi metto giù la piccola principessa. Oggi vorrei spiegare a tutti gli amici che ci guardano da casa, quali spazzole utilizzare per pettinare le varie razze, quindi poi non importa la marca, l'importante è vedere la tipologia di spazzola. Ok. Per il mantenimento di alcune razze, come slanare, che cosa utilizzare per slanare, e per altre razze invece che magari sono tra di questa stagione, soprattutto dato che è iniziato questo caldo tremetto, parte oggi, la questione della muta. Perché abbiamo tantissimi cani che ovviamente in questo periodo sono in muta, ma le toilettature per decreto sono chiuse. E quindi tutti i nostri amici proprietari dei cani sicuramente sono in difficoltà. Eh sì. È una diretta per tutti i proprietari dei cani che magari hanno bisogno di qualche consiglio. Perfetto. Metto giù la principessa? Perfetto. Ok, grazie. Riavviciniamo. Allora, lei è Frances, come posso affrontare? Prendo una spazzola, che è una spazzola che va sempre bene, io la pulsito perché non graffia. Dovete fare attenzione perché tantissime spazze di commercio sembrano uguali. Francesca, aspetta, aspetta che dobbiamo prima fare una piccolissima premessa, perché se no non facciamo la cosa giusta. Allora, la cosa più importante che io vorrei sottolineare prima di tutto è quando riapriranno le toilettature è quella di scegliere il toilettatore giusto. In particolare devi darmi delle piccole indicazioni, delle piccole chicche su come scegliere il toilettatore e perché dobbiamo scegliere un toilettatore e della federazione nazionale toilettatori. Allora, mi presento che da questo punto di vista, oltre che essere una toilettatrice e un'allevatrice di snautri, io sono il vice presidente della federazione nazionale toilettatori. Grazie. La federazione ha come obiettivo il riconoscimento della categoria che in una sventura come quella che stiamo vivendo oggi legata alla pandemia mai può essere considerata così importante come in questo periodo, perché noi siamo chiusi in quanto considerati non necessari anche perché abbiamo un codice a teco legato a delle altre tipologie di lavoro che non sono totalmente appunti alle nostre. Però la federazione ha aderito, faccio questo preambolo, alla chiusura perché abbiamo considerato la scelta giusta e quello che è etico per essere corretti nei confronti di tutta la popolazione. Io penso che ci sia un'etica al di là delle esigenze e questo lo pensa la federazione. Quando riapriremo, ovvero quando in fase 2 il governo ci consentirà di riaprire. Non sappiamo ancora la data perché ovviamente non c'è dato saperlo, nessuna associazione lo sa. Quando il governo lo comunicherà, tra l'altro c'è una riunione in corso oggi tra tutte le sigle sindacali e il consiglio dei ministri. Quando ci verrà detto se apriremo il 4, il 18 o il 25, non lo sapremo. Io consiglio a tutte le persone di rivolgersi a tollettatori professionisti, tollettatori che hanno avuto un percorso di crescita in questi anni, tollettatori che conoscono le razze, tollettatori che sanno trattare l'animale. Loro sono i nostri clienti, non è il proprietario il nostro cliente e quindi bisogna farli trattare. La domanda più difficile che mi può fare una persona è ma io come riconosco dove andare. Non è facile, non è facile. Io vi consiglio di rivolgersi anche alle nostre federazioni, di chiedere consiglio, dire se avete un cane fantasia piuttosto che, anche se il cane fantasia, magari anche solo farci capire il picco di pelo che ha, mandare una foto perché il cane fantasia comunque dietro ha una storia anche il cane fantasia, no? Dei groci che possono dare un pelo più volpinoide piuttosto che un pelo anche metici che strippiamo perché derivano, hanno dietro dei cani da strippi. Quindi chiedere comunque consiglio a chi rivolgersi, se non lo sapete, in modo da non andare a caso, andare in mano. Purtroppo ad oggi se una persona magari perde il lavoro e ha un negozio libero, il giorno dopo può aprire un negozio di tollettatura. L'importante è avere i requisiti a livello ASL, però non esistono requisiti relativi alle competenze, alle capacità e a un percorso formativo. Ok. Perché ci sia un percorso formativo comune in tutta Italia, uguale per tutti. Perfetto, va bene. Francesca riesci ad alzare un pochettino la voce? Sì, perché il microfono sta più forte, scusate, la spezzatura non è il massimo. Va benissimo, va benissimo. Allora, stavamo parlando di spazzole. Partiamo quindi da tutte le spazzole, come si possono utilizzare? Abbiamo già la richiesta di Maltese, Lapa Apso e Chihuahua. Che tipi di spazzole possiamo utilizzare? Allora, intanto cerco un'altra spazzola. Adesso vi faccio vedere con quello che ho qui. Allora, per tutto quello che riguarda i cani a pelo lungo, quindi adesso io non so se chi ha posto la domanda a cani tosati piuttosto che li sta mantenendo a pelo lungo. Pelo corto, il Chihuahua è a pelo corto. Al Chihuahua può utilizzare sia delle spazzole normali, sia anche delle spazzole in gomma che aiutano a togliere il pelo morto, diciamo, perché il problema dei cani a pelo corto, come può essere il Jack Russell a pelo liceo, il Carlino, il Chihuahua, per fare degli esempi, o qualsiasi cane anche di grossa taglia, ma a pelo corto, e che in realtà perdono tanto pelo e sono quegli aghetti tremendi che si infilano nei divani, nei tappeti e neanche l'aspirapolvere riesce a prenderli. Questo è un dato di fatto. Allora, spazzolateli spesso, anche se non avete delle spazzole specifiche, adesso che usiamo tutti quei bellissimi guanti, passate anche il guanto, vedrete cosa vi rimarrà attaccato, assolutamente tantissimo, e lavateli spesso, perché lavandoli, tranquillamente se avete una doccia, una vaschetta, potete lavarli, lavandoli molto del pelo morto cade, quindi può andare bene. Potete utilizzare anche degli spray che vi aiutano a spazzolare il cane, e nello stesso tempo magari per il cane diventa una procedura più piacevole, diventa una coccola. Però, ad esempio, queste spazzole in gomma possono essere molto utili per i peli lisci, perché promettono proprio il fatto di staccare il pelo, pelo morto, pelo che già il cane perderebbe rotolandosi, magari sfregandosi con la sua bella schiena sul tappeto di casa. Perfetto. Quindi, in generale, peli corti, il pelo corto in generale, come il carlino, eccetera, abbiamo la spazzola quella di gomma, che quindi riesce a togliere il grosso, e poi lavarlo. Lo Shih Tzu? Allora, Shih Tzu, che è un cane normalmente a pelo lungo, anche se probabilmente sono cani che vengono usati, l'ASAPS, o Maltese, quelli che mi hai nominato. Allora, se sono a pelo lungo si usa una spazzola che si chiama pin brush, oppure delle altre spazzole un secondo, che guardo se ne ho un altro esempio. Andiamo qua alla pin brush. Vabbè, la pin brush è una spazzola con gli aghi molto lunghi, normalmente ha un manico di legno, se no esistono spazzole con, adesso questa come vedete i miei cuccioli ci hanno giocato, con dei denti però morbidi, perché dovete fare attenzione alle spazzole che usate sui cani a pelo lungo, perché se hanno dei denti molto rigidi spezzano il pelo. Bisogna fare attenzione, quindi aghi morbidi, in rapporto magari a spazzole che poi vedremo per altre ragioni, oppure proprio una spazzola. Se andate nei negozi specializzati, ripeto il nome, una pin brush, brush sta per spazzola, è molto molto utile per tutti i cani a pelo lungo, anche per il bearded collie, tutti i cani che hanno un pelo lungo perché non spazzolezza. Allora, per i cani a pelo lungo l'utilizzo di spray per spazzolare il cane, anche se non sono proprio di districanti, anche dei condizionatori del pelo, meglio non ultimi, sono fondamentali perché aiutano comunque la spazzola a scivolare nel pelo. Quindi ad esempio un prodotto come lo spray perolucido della DogSelf potrebbe essere indicato perché aiutano, appunto idratano maggiormente il pelo e aiutano a staccarlo e quindi a staccarlo più facilmente. Esatto, lo spray della DogSelf è ottimo perché cosa succede? Idrata proprio il pelo mentre lo spazzola, aiuta a districare e nello stesso tempo lascia anche una discreta profumazione perché non è una profumazione eccessiva e non dà fastidio all'animale, quindi possiamo anche utilizzarlo nelle parti vicino al collo, nelle parti più vicino diciamo al tartufo perché non ha una forte profumazione. Questo lo so perché l'ho utilizzato e non è una cosa eccessiva perché a volte a noi umani piacciono tanti profumi, ci piacciono tante cose, non è detto che i nostri animali piacciono le stesse cose. Esatto. Se sentite pianto che vanno dalla mamma, non so se si sente, quindi è fondamentale. Fondamentale può essere anche l'utilizzo su cani come il barbone. Il barbone, il barbone, il barboncino come termine diciamo più comune, però il barbone che sia toy, nano, medio o lo standard, il grande mole, comunque sono cani che devono essere pettinati quotidianamente perché non bisogna far formare i nodi. Io a volte dico sempre, è vero che siamo tutti indaffarati, a parte in questo periodo di pandemia che siamo a casa, però nella vita comune abbiamo tutti mille cose, siamo stanchi, però spazzolare il cane cinque minuti al giorno ci risolve tanti problemi perché i nodi non si formano. Se io lo pettino dopo due settimane il cane avrà una serie di nodi, non mi basteranno cinque minuti, magari ci impiegherà mezz'ora, mi nervo io, si nervo dice il cane perché ha male, poi magari la tecnica che ho come proprietario, il movimento della mano non è corretto, rischio anche di graffiare la cute del cane e faccio un po' pastrofe, poi il cane quando va in tolettatura all'inizio è anche un po' esterico perché ha una concezione spazio alla dolore. Invece noi dobbiamo, quando insegniamo agli animali fin da piccoli il lato della tolettatura, dobbiamo usare lo stesso procedimento dell'educazione, quando gli insegniamo il seduto, quando gli insegniamo il resta, sempre con il rinforzo positivo. Il cane non deve avere delle associazioni negativi, nulla di ciò che farà parte della sua vita. Io inizio a toccare, alzare le zampe dei cuzzoli dal giorno che nascono, è chiaro che non hanno quello di spazzolare, ma io li tocco, gli tocco il pancino, gli tocco la schiena, li metto a pancia in su perché il cane deve essere super abituato a essere manipolato, non è una brutta parola, assolutamente. Il cane quando sta dal veterinario sarà tranquillo, quando andrà dal toilettatore sarà tranquillo, chiaro che magari vi fa vedere qualche piccola scenata perché preferirebbe andare al parco, però sarà un cane che si farà visitare, sarà un cane che si farà tolettare. Certo. È legato. Certo. Quindi questa cosa è fondamentale, come vedete lei è un cane di due anni e mezzo, ma è bravissima. Nonostante tutto, però è bravissima. Adesso vi faccio altri modelli di spazzole, c'è una spazzola che è molto rigida, che io uso solo in presenza di nodi importanti. Riesci ad alzare la voce Francesca? Sentite? Scusate, mi devo avvicinare di più, vedete il mio faccione. Questa è una spazzola classica, però questa, con fronte a quella che vi ho fatto vedere, è molto dura. Ok. Questa la uso quando mi arrivano i cani molto ammolati. Ok. Questo è l'ausilio di prodotti districanti, come il lucidante della Dog Health, mi aiuta veramente a togliere dei nodi molto, molto importanti. Però questa, attenzione, perché questa graffia. Non è come questa qui, che io consiglio a tutti i miei clienti per la spazzolatura quotidiana. Certo. Perché i cani d'ascivo sono pettinati tutti i giorni e non hanno mai nodi. Chiaro, giusto. Ma questa non graffia. Certo. Io questa la ritengo sicura sull'utilizzo di persone magari meno esperte, come può essere un proprietario. Magari il primo cano. Certo. Mehdi Iazzetta chiede, il mio spitz è in fase di muta, come deve fare per fargli gonfiare il pelo perché dopo asciugato si schiaccia? Allora, si schiaccia perché perdendo tutta la parte relativa alla lana, al pelo che aveva diciamo invernale, tutto il sottopelo, il pelo ovviamente non ha più, il pelo cheratinico diciamo quello che vede del suo spitz, non so se è bianco, se crema, è ovviamente un pelo che ha bisogno di una base di lana per rimanere gonfio. Infatti questi cani, di cani spizio di tipo primitivo, spesso nel periodo estivo vengono poco portati alle mostre perché c'è proprio la situazione che il cane risulta volto, il pelo non risulta volutato. Allora, posso consigliare uno il tipo di asciugatura. Asciugare con il soffiatore. Allora, intanto Bugello è meglio quello tondo che non questo perché questo... Francesca, non hai un volume da alzare proprio? Si sente proprio? Si sente proprio poco. Io credo che sia al massimo il volume. Mi sentite? Adesso meglio. Proviamo, provo a stare più vicina. Questo, se utilizzate diciamo un soffiatore, questo è cambiabile, mettete quello tondo, soffiatori comuni da cassa, e dovete soffiare proprio alla radice. Dovete iniziare a asciugare la radice anche contro pelo, perché cosa succede? Anche noi quando vogliamo volumizzare i nostri capelli, chi ha i capelli ricci lo sa, asciugare la radice e asciugare, diciamo, in senso contrario, aiuta la radice a stare più dritta. Ah, ok. Guardate che tante cose che si usano sugli esseri umani non sono così diverse nell'ambito canino, più che altro le tecniche. perché se io asciugo il cane nel senso del pelo, anche tipo uno snoutter, verrà bello steso e bello tirato. Se io lo asciugo contro pelo, chiaro che il cane sarà completamente volumizzato, che su questa razza è una cosa negativa. Chiaro. Oppure comunque asciugare dritto, cercando di asciugare prima di tutto la radice per volumizzare. Allora, se non sono cani da gara, fate solo questo. Chiaro che se si tratta di cani da gara, ci sono anche dei gel volumizzanti, degli spray volumizzanti. Io su un cane da gara, personalmente sconsiglio l'utilizzo di queste cose, perché dovete considerare che i cani da gara che vedete estremamente volumizzati fanno il bagno molto spesso. Certo. prima della gara e la sera stessa della gara, perché nessun prodotto viene lasciato sulla cute del cane. Molti non lo sanno, dicono, ah che bello, sì, ma la sera stessa viene rilavato completamente. Ah, ecco, vedi. Nulla sulla cute, il cane deve vivere con la sua bella pelle libera. Tutti questi prodotti che noi utilizziamo quando andiamo in esposizione, li utilizziamo per quel giorno, nonostante, ad esempio, io uso qualsiasi prodotto naturale non nocivo, non metterei mai nulla di nocivo perché è il risultato eccellente sulla cute del mio cane, non lo farei mai, ma in qualsiasi caso non glieli lascio sulla pelle, quindi dopo una giornata che uno si alza le 5 e lava il cane, lo prepara, va in esposizione, si arriva a casa ad orari assurdi, si rilavano tutti i cani che sono stati in esposizione. Ho capito, allora c'è il trucco, te capi? C'è il trucco, quando vedete i cani magari avete scelto un allevatore, vedete anche bel pelo, chiaro che, non vi preoccupate per i proprietari appunto dei cani di tipo spizzo e primitivo perché è ovvio che con la muta il cane risulterà più piatto, meno volumizzato. Certo. La partita è la cura del periodo della vita di quel cane, in quel momento. Francesca, Titti Antonacci chiede se non è stressante per loro un lavaggio così frequente. Allora, quello che ho detto prima, i cani devono essere abituati a tutto. Esatto. Tutto può essere stressante, tutto può essere piacevole, deve essere insegnato fin da piccoli tutto come un gioco. Quindi, vedete, lei non è legata. Certo. Magari un po' annoiata perché dice mi ha messo qui, non mi sta neanche considerando. Ma io se le alzo una zampa e gliela pettino, lei si fa... Da storda perché sono legata, però se le siamo, lei si fa alzare le zampe, se le fa a pettinare. Perché questa cosa, da quando era piccina, piccina, ha dato che è nata in questa casa, lei è stata lavata, sono state asciugate le zampe, sono state spazzolate. Io vi dico, i miei cani fanno un bagno, quelli che vanno in gara tutte le settimane, i cani da casa, per una questione di tempo, li lavo ogni 15-20 giorni. Certo. Di tempo di un po' la mia vita quanto impegnata perché non è sempre semplice, è un lavoro, stare dietro a tutti. Certo. Ascolta, Medi Iazzetta chiede sempre dello Spitz, se si possono, che cosa utilizza, prodotti a base di che cosa per le maschere e per il districante? Allora, per i districanti ci sono tantissimi prodotti con oli naturali, che vi consiglio. esistono prodotti a base di oli naturali che però non sono unti, questo ve lo consiglio perché se utilizzate i prodotti che comunque ungono il pelo, siete costretti dopo averli spazzolati a lavare il cane. Avvicinati Francesca che si sente male. Mi avvicino. Dovete utilizzare dei prodotti a base di oli naturali, tranquillamente, però che ci sia la garanzia che non lasciano unto sul pelo, che una volta asciugato il pelo ritorni secco, perché se no vi rimane quel pelo unto che è brutto. Ci sono dei prodotti districanti che purtroppo prevedono successivamente il lavaggio, non è detto che uno lavi il cane ogni volta che lo spazzola, sarebbe assurdo. Certo. Ok. Quindi, tantissimi oli. Per quello che riguarda invece gli sciampi, per lo Spitz, io userei degli sciampi a base di cheratina. Ah, ok. Perfetto. Per esempio, cheratina che danno spessore al pelo, lo nutrono e gli danno consistenza. Questo può anche aiutare il volume, non uso sciampi volumizzanti. Per quello che riguarda la maschera, se io metto una maschera, il pelo è ancora più flush in questo caso, quindi bisogna fare attenzione. Se metto una maschera su uno Spitz, perché sento che il pelo è disidratato, o sento che il cane mi ha necessità, anche perché la maschera aiuta quando la muta non si stacca. Mettere la maschera aiuta anche poi a levare la muta. Questo lo facciamo anche noi tolettatori, con tanti rigaschi, con tanti cani che quando fanno la muta sembra che ne vichi. Quindi si può usare. Se non è una questione di muta, allora usare una maschera molto leggera e molto diluita, come un cucchiaino da minestra, da minestra non pieno, però diluito in un litro e mezzo d'acqua. Ok, perfetto. Perché le maschere sono molto dense. Quindi le mettete in una ciotola con un dito d'acqua bollente e la stemperate con, io uso proprio quello che si usa per fare lo torte, lo sbattitore non elettrico manuale. Comprato all'Ikea, costa niente, non vi preoccupate, e riuscite a fare una sorta di cremina. Poi dopo mano a mano l'andate allungare e fate un litro e mezzo e poi la versate, raffreddate poi l'acqua, mi raccomando, e successivamente l'andate a versare sul vostro cane. Normalmente le maschere in commercio di qualsiasi marca hanno un tempo di posa dai 3-5 minuti. Ho capito. C'è una base di jojoba, ci sono tantissimi, anche lì c'è un mondo, c'è un mondo. Però se abbiamo un problema che vogliamo volumizzare, magari non la mettiamo. Perfetto. Ti sento sempre lontana però. Allora, Marco Esther chiede, il barbone necessita di lavare un jojoba più frequente rispetto ad altri cani? È vero, e poi chiedeva, diceva che in altri gruppi dicevano che era troppo frequente lavarlo ogni 5-7 giorni, ma qui è un dibattito che come al solito dipende, sempre sul barbone. Allora, il barbone sicuramente va lavato spesso, stesso 5 giorni, per amor del cielo, sempre se non è un cane da Expo può anche essere una cosa eccessiva. Vi dico una cosa, un'altra chicca, un altro segreto. Tanti dicono che lavare il cane fa male, tutti i cani di esposizione vengono lavati, nessuno ha dermatiti, nessuno sta male, e il pelo non si sfibra, il pelo è molto curato, molto forte, super idratato. Uno, non utilizzate prodotti scadenti. Certo. Perché sui prodotti scadenti fanno male, ma come per noi, se usiamo determinati shampoo scadenti che magari i 3 litri costano un euro e mezzo, poniamoci delle domande, leggiamo le etichette, che la prima cosa da imparare è leggere le etichette. Bravo. Non ascoltate che il commesso vi dice questo shampoo è buono. Io sono come Sant'Ommaso, quindi devo capire, devo leggere, devo indagare e poi decido. Così anche prima di essere tolettatrice, signore. Io ero direttore di banca, del Banco di Sant'Adebre. Certo. Stavo i miei cani a tolettare. Ho sempre avuto cani, sempre allevato. Ovvio che quando ho iniziato a documentarmi, a capire shampoo, non shampoo, ho fatto la mia selezione. E ci sono anche persone, non è vero. Quindi il barbone a casa, secondo me, può essere lavato ogni 15 giorni. Ma non vuol dire che lo spazzolo ogni 15 giorni. Certo. Lo spazzolo tutti i giorni e lo lavo ogni 15 giorni. Allora, Marco Ester, riformulo la risposta di Francesca. Non è una questione di frequenza, Dora Pellegrino, Francesca Alleva Schnauzer. Non è una questione di frequenza, ma è una questione di qualità di prodotti e di qualità di lavaggio. È chiaro che se si usa l'aceto di mele, lo shampoo Johnson dei bambini, la pasta Fissan, piuttosto che alcuni addirittura mi hanno detto che usano lo svelto perché c'è dentro il limone e sgrassa bene, è chiaro che li distruggi i cani. Ma se tu hai l'accortezza di utilizzare dei prodotti di alta qualità, la frequenza e il come viene lavato, il come viene utilizzato lo shampoo, quindi sempre ben diluito e con le indicazioni che ha dato Francesca, sicuramente non sono cose che fanno del male. Scusami se ho riassunto perché magari non si sentiva troppo bene e quindi ti ho… Sì, esattamente quello che ho detto. Io a tutti i miei cani che non hanno dermatiti, la maggior parte di loro, comunque ogni sette, massimo quindici giorni, fa il bagno. Esatto. Un'altra cosa fondamentale che mi hanno detto, dicono anche i miei clienti e quindi penso che possa… L'asciugatura. Ecco. I cani vanno asciugati, colpese, alzo il piede, asciugo tra i polpastrelli se no il cane si lecca. Brava. Vanno asciugare il cane che sia gennaio che sia agosto. Esatto. Molti mi dicono, ma dal mare il cane si butta in mare da solo. È una cosa diversa. Certo. Quando noi laviamo il cane con lo shampoo, arriviamo fino alla cute e proprio andiamo a bagnare il cane. Ci sono cani che fanno il bagno in mare, sono bagnati superficialmente. Esatto. Non potete mai notare. Sono bagnati. Quando li laviamo noi, li bagniamo fino in fondo, quindi loro non hanno più protezione. E lasciarli, sì, li frizioniamo, quindi andiamo a fondo. Quindi fondamentale è l'asciugatura. Bene. E attenzione a orecchie. Non si lasciano umide le orecchie. Possono arrivare funghi. Potremmo creare dei problemi, diciamo. Esatto. Attenzione alla parte posteriore, vicino alla coda, quella, la groppa, diciamo. Perché se la groppa rimane umida, può avvenire che il cane ha dolore. E vedrete un fenomeno. Il cane tiene praticamente tutta la coda bassa e poi dopo si deve correre dal veterinario. E c'è il cortisone, piuttosto che un antidolorifico. Non lo so. Ogni veterinario poi dirà cosa si deve fare. Non è il mio capo. Lasciare i piedini bagnati il cane si lecca e poi avrà tutti i piedini rossi quando magari non è neanche un cane allergico. Brava. Esatto. Quindi non è tanto quanto lavo il cane. Mi raccomando, ogni volta che lo lavate, asciugatelo bene. Perfettamente. Esatto. No, 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 hai fatto benissimo. Guardate, c'è il caso di uno dei moderatori del gruppo Dogself. È riuscito a risolvere il problema dopo due anni che tribulava. Perché ha scoperto che quando andava dal suo tolettatore ad asciugare, a lavare il cane. Non riusciva, è un carlino, quindi con tante pieghe. Non riusciva ad asciugare perfettamente, assolutamente, perfettamente una piega. Rimaneva regolarmente umido. Si infettava. E creava delle dermatiti pazzesche. Quindi lui praticamente pensava fossero gli shampoo che utilizzava e quant'altro. Invece finalmente è andato da una dermatologa che l'ha lavato lei. L'ha asciugato lei. Ha verificato che il cane non aveva niente dopo l'asciugatura. E ha decretato che il problema era proprio l'asciugatura. Per cui per dirvi quanto può far male una asciugatura fatta non in modo corretto. C'è un'altra domanda per cui vorrei rispondere io. E poi tu mi direi che cosa ne pensi anche tu. Ma vorrei, anzi, ti dico la mia direttamente così. Allora, Titti Antonacci, sempre per quello che riguarda il maltese. La sua toelettatrice dice che assolutamente bisogna strappare i peli delle orecchie. Mentre il suo veterinario lo sconsiglia vivamente. Io sono dell'idea che ha ragione il veterinario. Dipende dalle razze, io risponderei. Il maltese, questo è un maltese nella fattispecie. Allora, bisogna sempre, uno, vedere se il cane magari è sempre ricco di cerume. Perché ci sono cani che hanno peli nelle orecchie, ma in realtà è bianco. Non hanno nessun problema. Due, se invece il cane produce cerume, che sia una motivazione o un'altra, perché sono mille, no, però sono diversi. Allora, potrebbe essere il veterinario stesso a chiedere, o a farlo lo stesso veterinario, a strappare i peli. Perché quando dobbiamo andare a inserire le goccine medicinali che prescrive il veterinario, i peli bloccano, fanno come da filtro. Esatto. Però ecco, se il veterinario lo richiede, è un conto. Ma che un toelettatore d'amblè mi faccia lo stripping alle orecchie, io questo non lo consiglio, quantomeno. In generale, anche perché in linea di massima, io ho notato che le orecchie dei cani, se sono sane, non hanno neanche bisogno di essere pulite. I miei cani vivono fuori, costantemente, e io ho una maremmana a cui ho pulito le orecchie in 11 anni, una volta perché ha preso gli acari. E poi mai più. E ha le orecchie perfette. Però al maltese, ad esempio, anche il pelo delle orecchie ha una crescita e diventa molto, molto lungo. Un conto è tagliarlo e regolarlo, un conto è prendere e strapparli tutti i peli tutte le volte che lo vedi. Non è sempre necessario. Ad esempio, nella mia razza lo faccio, ma negli schnauzzer è una cosa che si fa. Però non è una procedura che si fa a tutte le razze. E comunque, almeno io collaboro molto con i veterinari di zona, quindi collaboriamo quando è utile, quando non è utile. A me mandano cani, prima hai parlato del carlino, e mi è venuto in mente che a me mandano dei bulldog che avevano l'infezione alla piega della coda. Perché i bulldog hanno quella coda, sempre per il fatto che non erano mai stati asciugati bene. Esatto. Quello che consiglio su Carlini, Bulldog, Sharpay, e ci sono altri cani che ovviamente possono avere le pieghe, ma anche cani a pelo lungo, perché ci sono cani che hanno il muso molto schiacciato e hanno le pieghe vicino agli occhi. Bisogna fare attenzione. Per questo bisogna andare da tolettatori competenti, perché non basta lavare il cane. Esatto. Bisogna trovare una morfologia del cane, bisogna conoscere le maggiore... Non le sappiamo tutte, non siamo veterinari, ma dobbiamo sapere, riconoscere i problemi dell'acute del cane e sapere consigliare se è il caso di andare dal veterinario. Esatto. Quindi, ad esempio, una procedura che seguo io è asciugare con un panno tutte le pieghe, perché il soffiatore realmente non arriva. Certo. Noi andiamo a asciugare con un panno, le pieghe hanno una pelle anche più viva, quindi non si può andare con l'aria calda. Il cane non si fa fare, ma perché? Perché il cane è infastidito. Certo. Il panno è poi dell'aria molto, molto leggera, tendenzialmente al freddo. Certo. Perché sia freddo. Certo. Però non tutti lo sanno, quindi il nostro amico, diciamo, proprietario del carlino, probabilmente è andato da una persona che non conosceva bene la razza, non sapeva le patologie di questi anche funghi, di questi problemi che possono nascere all'interno delle pieghe. Chi alleva bulldog, ad esempio, le conosce perfettamente, sa che devono essere, anche quando non sono lavati, nella cura quotidiana del cane vanno pulite le pieghe. Esatto, certo, sì, 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 assolutamente. Tant'è vero, tra l'altro, per la faccia dei brachicefali in generale, noi abbiamo studiato uno spray apposta, a base di aloe vera e acido borico, in modo che ci sia la possibilità di avere una lieve detersione e mai disinfezione, perché attenzione a non disinfettare la faccia del cane quando non c'è necessità, e di idratare la pelle, in modo da idratare la pelle anche, ed è appunto lo spray Purifil. Dunque, ci sono delle altre domande. Un bulldog francese di sei mesi che puzza, lì bisogna capire se puzza perché ha un problema oppure no, ogni quanto si può fare il bagno. abbiamo detto prima, il bagno può essere fatto anche con frequenza, ma non perché puzza, il problema dell'odore bisogna risolverlo a prescindere dal bagno. Se è un normale odore di cane, i cani… Tu mi insegni, normalmente un cattivo odore del cane, il primo problema è l'alimentazione. Non credo sempre che una volta mangia il cane. Esatto. Purtroppo la maggior parte dei problemi degli animali in realtà derivano dall'alimentazione. Non voglio adentrarmi in un mondo che non è mio, però è la prima domanda che farei a questa ragazza. Esatto. Seconda cosa, fare vedere comunque il cane, il veterinario di fiducia, per verificare che la cute non abbia dei problemi o le orecchie, piuttosto che capire che tipo di odore ha. Esatto. Può avere un problema di malastezia, può essere allergico a qualcosa, può essere una cattiva digestione perché il cibo non è idoneo, considerando che i bulldog realmente spesso hanno diversi problemi. Non sono cani che comunque sono abbastanza delicati, chiamola così. Esatto. Quello che consiglio prima di tutto è sapere cosa mangia il cane. Per lavarlo non c'è problema, i bulldog ogni 15 giorni possono anche essere lavati. Anche lì, attenzione alle pieghe. Adesso è cucciolo, però poi ne avrà di più. Attenzione al naso. Fate attenzione quando li lavate che non vada l'acqua nel naso, perché sono cani che possono avere problemi di respirazione. Quindi attenzione a quando lavate la testolina verso il basso, quando riguarda i bulldog, che non vada l'acqua assolutamente in quello che è il naso. e asciugateli sempre, sempre molto bene. Proprio altro che anche un cucciolo. Mi state dicendo che a sei mesi i cuccioli, quando io lavo i miei cuccioli, cosa che succederà domani dopo questa giornata di pioggia, li lavo in un orario o la sera, in modo che non essono all'aperto fino al giorno dopo, per evitare che anche se sia bravo, anche se al mio lavoro io possa aver lasciato un minimo di umidità, per evitare che il cane prenda un colpo d'aria. Oppure se li lavo in un altro orario, sicuramente per un paio d'ori io non li metto all'esterno. Rimangono in casa, fanno il loro pisolino, si riposano, giocano in casa, non è un problema. Non li faccio uscire all'esterno dopo il bagno, soprattutto finché hanno i 7, 8, 10 mesi, quando sono ancora molto piccoli, molto delicati. Certo. Però l'odore, non è il bagno l'odore. Ecco, tra l'altro, Icraft Bari, che è la persona che ha fatto la domanda sull'odore, volevo specificare che gli abbiamo messo un articolo che abbiamo scritto su Dog's Helper, proprio per riconoscere l'odore del cane. Titti Antonacci dice, per cui non si capisce ascoltare il toilettatore o il veterinario, se il suo veterinario gli ha detto che le orecchie del suo cane non sono da toccare, non gliele faccia toccare al toilettatore, perché la priorità ce l'ha il veterinario rispetto al toilettatore. Quindi in questo momento mi sento di dire, se il suo veterinario gli ha detto così, ascolti il suo veterinario, perché significa che il suo cane non ha bisogno di fare lo stripping del pelo. Questo mi sentirei di dare. Se posso dare un consiglio, sarebbe carino mettere in contatto i veterinari e il toilettatore, così si parlano e decidono anche la linea da seguire. Esatto. Io con i veterinari di zona, se c'è un cane che ha una patologia, sono io a chiamarli e dire, guardate che la cliente X vi chiamerà, perché io ho constatato una ciste, piuttosto che le orecchie mi sembrano particolarmente infiammate, quindi c'è bisogno che lo veda un veterinario. Non ti sentiamo. È sparita, adesso tornerà. Ecco, ecco, ritorna, è tornata. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo. Ecco, va bene. Scusate, è successo qualche cosa. Come sto dicendo è che l'importante è che tutti i toilettatori lo devono capire, che il toilettatore può essere gli occhi, vede delle cose che magari il veterinario ha ancora visto, perché il cane se sta bene va una volta all'anno a fare il vaccino, va una volta all'anno a verificare. Noi magari li laviamo tutti i mesi, li laviamo tutti i mesi. Quindi è bello avere un buon rapporto con i veterinari di zona. Se un veterinario mi dice a quel cane, io avevo un cavalier, lo lavi, non lo lavi, ha sempre l'otite. Non riescono a trovare la soluzione. Quindi le veterinari non bagnare le orecchie, non lavare le orecchie. Le abbiamo provate tutte, ma comunque anche non lavandolo tre mesi, abbiamo provato qualsiasi cosa, il cane probabilmente ha una... Devono ancora stabilire qual è il problema. C'è qualcosa di particolare. Però collaboriamo. I veterinari mi dicono, su quel cane guarda, io ho un cane che il veterinario vuole che lav... Adesso a parte questo periodo mi dispiace, lavavo tutte le settimane, con un prodotto che però non era un prodotto che io avevo in negozio, perché era uno shampoo, più verso diciamo, di tipo farmaceutico, uno shampoo particolare, perché il cane ha una macchia, e quindi dovevo lavarlo io, mettendomi dei guanti, proprio uno shampoo particolare, perché il proprietario non era in grado di farlo a casa, non si era attiva. Quindi ovviamente mi ha chiamato il veterinario, mi ha detto, guarda che te lo mando, però devi usare questo shampoo, con questa frequenza, e seguire questa procedura. E io l'ho fatto. Perché la collaborazione è fondamentale, ma un toilettatore non si può mai sostituire al veterinario. Certo, ecco, questa è una cosa che ti ringrazio, perché la collaborazione è un conto, ma la sostituzione può essere pericolosa. Roberta Battaglia, posso chiedere una linea di prodotti, i nostri prodotti Dox Health, sono sicuramente degli ottimi prodotti, li abbiamo messi nei commenti, se lo guardi li trovi. Dunque, idem, lo stesso identico discorso che abbiamo fatto, per le orecchie, anche per il barbone. In linea di massima, se il cane ha dei problemi alle orecchie, vi rivolgete al vostro veterinario, che dà indicazione al toilettatore, su come comportarsi. Ok, questo direi che è la cosa più importante, perché purtroppo, la gestione delle orecchie, se sono sane o se sono malate, è comunque un appannaggio del medico veterinario, che dirà al toilettatore, fai in un modo, piuttosto che fai in un altro. Ecco, questo è il... Dora Pellegrino chiede come si chiama il tuo allevamento. Allora, il mio allevamento si chiama Francesca's White King, il re bianco di Francesca, e avevo senni bianchi, i medi neri, la foto del piccolo nero, diciamo che non è un espluato, però non allevo i medi neri, sono in provincia di Milano. Perfetto. Quindi, Titi Antonacci, tu sei a Milano come negozio, no, in provincia di Milano, a Lineart sei, o a Milano? Il mio negozio, io l'ho ceduto a un'altra persona, e si chiama Black Quinto Lettatura, ma ci sono tutte le ragazze che lavoravano con me prima. Ci sono le stesse ragazze, bravi, molto bravi. E tu adesso quindi? Io adesso mi sto occupando di allevamento, di cani da esposizione, e, vabbè, ci saranno delle novità, ma le potrete a fine parte via. Non possiamo spoilerare niente, va bene, va bene. Vabbè, allora dopo, nella diretta ci metti il link del tuo allevamento, per piacere, della Federazione Nazionale, del tuo negozio, dove andremo dopo. Allora, ti dicono di aprire un negozio a Vicenza, praticamente, ok? In Veneto ci sono dei toilettatori bravissimi, per tutti i veneti potete scrivere alla Federazione Nazionale Toilettatori, sezione del Veneto, trovate la presidentessa Elisabetta Grison, su Facebook, potete chiedere lei a chi rivolgervi in quel di Vicenza. Ecco, perfetto, una cosa che si potrebbe fare, infatti, è scrivere alla Federazione Nazionale dei Toilettatori, per riconoscere i toilettatori che sono iscritti alla Federazione, e che quindi hanno sicuramente una capacità in più di preparazione e una possibilità in più di essere più preparati. Svelati fa una domanda carina, se ci sono accortezze particolari per un cane con il pushing? Direi che le accortezze particolari sono soprattutto terapeutiche, dopodiché dipende se ha sviluppato tanti problemi a livello dermatologico, ma anche lì... Allora, intanto, un cane che ha una patologia così importante, qua riparte, quello che ho detto prima, fondamentale, che il toilettatore si senta con il veterinario, perché il veterinario potrebbe richiedere una procedura particolare. Bisogna vedere che stato è il cane, come sta, che terapia sta svolgendo, perché comunque sono cani che tendenzialmente, in questo caso, tutto può essere uno stress e quindi vanno, uno trattati con la massima delicatezza, che è una gestione diversa. La gestione diversa è nei cani malati, nei cuccioli, per non avere un approccio sbagliato, e nei cani anziani, che magari sono sempre stati toilettati, ma la pazienza, come nelle persone, cambia, e anche a livello fisico, la pazienza, la spazzola, ci cambiano. Io ho la mia barboncina, come dicevo, la mia barbonatoi, che non vive con me, con mio fratello, che ha 14 anni, adesso non ama più essere toilettata, ha sempre fatto da modella, ma ha 14 anni, quindi è come una persona sopra i 90, signori, vorrei capire la pazienza. Certo. Quindi, è in ordine, la sistemiamo, la teniamo bene, cerchiamo di stressarla almeno possibile. quello che riguarda il cucino, se mi arriva un cane così e il proprietario non me lo dice, ma non ha detto nulla al veterinario, chiedo il numero del veterinario, lo chiamo e seguo le direttive. Questo è quello che farei io, perché mi sentirei con una giusta coscienza e un buon metodo professionale. Il veterinario mi può dare delle indicazioni, a volte i proprietari, ascoltatemi, perché è vero, non riferiscono tutto, né al veterinario, né al toilettatore, ma perché magari sottovalutano determinate situazioni, quindi non è che non riferiscono perché non vogliono riferire, perché non sanno valutare sempre tutto. Io parlo anche di miei clienti che sono persone anziane e per certe cose magari non le notano. Quindi è giusto che ci sia questa collaborazione. Esatto. C'è una domanda che è davvero curiosa, soprattutto la risposta l'abbiamo già data, ma vorrei risottolinearla. Danila Madaro dice che le hanno detto di lasciare leggermente umido il pelo perché così non lo disidrata e la pelle non viene bruciata. Poi va asciugata dall'artista in giù. Vabbè, sarà in giù, non ho capito. Vabbè, comunque, assolutamente no. Il fatto di lasciare il pelo bagnato è un errore enorme. Non so chi abbia detto questa cosa, ma ritorniamo al discorso di prima, il pelo non va lasciato bagnato. Esatto. Se il pelo si secca, uno può darsi che state usando un phon, un soffiatore con una temperatura troppo alta, quindi abbassate la temperatura, o magari se non è sufficiente lo shampoo, il cane, magari, perché per un cambio di stagione, perché appena finito il calore, per un cambio ormonale magari è un po' disidratato, allora in quel caso posso fare magari una posa di una crema o di un balsamo o idratante. Esatto. Ecco, a questo proposito ad esempio, io ricordo che utilizzare degli spray a base di oli essenziali, utilizzandolo sul pelo non completamente asciutto, ma leggermente umido e poi asciugarlo dopo, aiuta a idratare, perché l'olio essenziale con l'acqua si distribuisce meglio sulla pelle e sul pelo e di conseguenza può essere più utile, può essere anche un modo ulteriore per utilizzare per esempio appunto lo spray pelo lucido. Spesso e volentieri può essere utilizzato anche come condizionante. Ho una barboncina a toy con pelo ormai molto lungo, non ho più un soffiatore, posso usare il phon se si come? Ciao Cristiano. Allora, ottima domanda, perché io penso che nelle tue condizioni ci siano tante persone che magari non hanno mai lavato il cane a casa e l'ha sempre portato in toilettatura. Se vuoi utilizzare il phon, normalmente il phon delle persone ha tre velocità e puoi usare anche la media o la massima velocità, non è quello il problema. Devi fare attenzione alla temperatura. Io normalmente lo metto a metà perché quando utilizziamo la temperatura alta, ad esempio che uso io per asciugare i capelli che sono sempre di fretta, però può essere molto caldo per la cute del cane e il barboncino comunque ha una pelle molto delicata. Quindi io ti consiglio di utilizzare anche se il cane non si spaventa, che non ha paura perché è abituato al soffiatore e anche la potenza massima che non sarà mai a livello di un soffiatore, però di fare attenzione di tenere la temperatura bassa o a metà, mai la potenza massima perché puoi sfruttare. Perfetto. Allora. Abbiamo finito il discorso delle spazzole, no? Mi sa. c'è un mondo, c'è un mondo. Ok, dai, allora andiamo avanti che ti ho interrotto io, c'erano un sacco di domande, possiamo ricominciare con le spazzole se vuoi. C'è una spazzola che è morbida, questa io la uso sia per volumizzare sia spesso anche per snodare perché col fatto che si muove non mi rimane attaccata al nodo e non tiro, non faccio male all'animale, però questa è una spazzola che soprattutto in asciugatura viene utilizzata su diverse razze per volumizzare. Quindi mi aiuta se vedete già anche solo la differenza tra infatti se vedete già la differenza tra le due zampe, non so se si vede. È un po' sgranato ma è colpa del poco male. Una zampa spazzolata risulta già tutta volumizzata con questo tipo di spazzola e questa è una zampa non spazzolata. Ok. Si vede, però si vede ecco così ogni tanto avvicinerò scusate la tecnologia non mi assiste moltissimo oggi ma mi attrezzerò ho capito che mi devo attrezzare però i negozi di tecnologia sono aperti quindi troverò il modo quindi questa è una spazzola interessante per volumizzare per chi ha fatto le domande sul volumizzare perfetto è una spazzola che trovate liberamente in commercio esiste di più marche non ve le dico perché non mi piace fare pubblicità però la potete trovare il lato nero è il lato più rigido il lato bianco grigio è un lato più morbido ok poi valutare anche la tua spazzola il cane quando non è abituato un'altra cosa importante è far annusare tutto quanto deve sapere cosa stiamo utilizzando adesso lei sta annusando è abituata però lo sa altri tipi di spazzole possono essere delle spazzole molto delicate questa è una spazzola anche a uso umano che io uso sui peli cheratinici quindi peli anche da stripping per rendere il pelo pulisce ah ecco vedi non fa male e me lo appiattisce quindi va bene anche su tantissime alterazioni questa non fa male non toglie i nodi certo diciamo pelo ruvido perché il pelo ruvido non si annoda certo giusto però il pelo ruvido non si annoda però è bello a me piace mi ha un altro anche di un altro tipo che è molto molto simile è che questa però costa dieci volte tanto perché questa è una spazzolantista no lo dico perché un conto utilizzarla in modo professionale è un conto quell'altro è più che sufficiente questa però è molto bella perché adesso voi non lo vedrete nella telecamera però oltre che lasciare il pelo lo lucida ah caspita i bianchi si vede fino a un certo punto ma su ad esempio il pelo nero o su cani di colore anche rosso diciamo farci capire su altri funziona tantissimo è bellissima solo che questa ovviamente va ordinata su siti più specializzati e un pochino più difficile da trovare certo se no rivolgete gli altolettatori di fiducia gli invito ho visto questa spazzola mi piacerebbe averla e sicuramente riesce a procurarvele quando fa un suo ordine ah certo professionali e questa è molto molto carina il cane non dà nessun fastidio certo lei è di sua senti Francesca è una domanda che ci hanno fatto nel gruppo più e più volte i maltesini che hanno come il tuo un po' di ciuffi sugli occhi e che praticamente non vedono più e vanno tastando tipo poveri poveri cecchi col bastone come devono fare per tagliare cosa devono fare devono tagliare non devono tagliare cosa devono fare allora se non avete mai utilizzato delle forbici su un animale non fate l'ora ok uno perché le forbici che avete a casa intanto avranno la punta i cani non sono come le persone che vanno dal parrucchiere si siedono e sono fermi il cane si muove è pericolosissimo quello che posso dirvi che non vi piaccia che vi sembri è piuttosto vi fate un piccolo codino centrale quando i codini devono essere morbidi non con i codini super tirati perché in quel caso tirate il cane all'occhio se io tiro troppo li tiro i lati dell'occhio dovete fare attenzione a questa cosa dei codini morbidi lasciando proprio la parte sotto molle che non abbia e poi non lasciategli su un pisse magari di notte glielo disfatte e poi glielo rifate perché la pelle deve riposare immaginate quando gli uomini non lo sanno ma le donne che vanno ai matrimoni magari hanno fatto quei raccolti tenuti tutta la giornata quando diamo a togliere corcine varie si sente a volte tipo un formicolio certo e al cane può succedere la stessa cosa ok quindi glielo rifacciamo glielo togliamo perfetto l'ha lasciato su tre settimane e si è staccato un pezzo di quello e si per forza si con un'infiammazione quindi sempre poi molti chiederanno perché c'è il problema non tanto di quelli sopra che posso mettere e fare una codina io penso che parlino dei ciuffetti questi qui davanti agli occhi si che crescono laterali chiaro allora il maltese in teoria lì non andrebbe neanche tagliato perché se lo si fa crescere negli occhi non andrà mai quando si inizia a tagliare poi si taglia sempre è una diatriba anche qui su come toletta del maltese su altre razze su altre razze magari si taglia e posso capire che vi ha fastidio pettinateglielo in giù però non utilizzate le forbici perché se io vi faccio vedere vedo una forbice a caso adesso prendo una dentata io devo andare a tagliare vicino al cane lei adesso vedete sempre che parliamo no ma è pericoloso mica da ridere altro che io uso la forbice in certe posizioni perché anche se sono esperta sono posizioni che mi evitano il rischio certo non è la punta verso l'occhio non potrà mai succedere però una persona che non svolge il lavoro del toilettatore o comunque non è capace non l'ha mai fatto mancano secondo me se il signore ci assiste fra due settimane dovremmo aprire ecco infatti la cosa più importante quindi è spazzolarli tutti i giorni per evitare di continuare a formare nodi sostanzialmente non solo superficialmente perché cosa succede le persone hanno difficoltà ad alzare le zampe dei cani e spesso ci troviamo la zampa interna molto annodata fare attenzione alla scella perché qui sempre ci sono nodi mostruosi e il pancino quindi o mettete il cane sdraiato a pancia in su o lo alzate ma bisogna sempre pettinare anche questa parte molta delicatezza so che molti di voi hanno paura perché ovviamente ci sono le mammelle ma se utilizzate delle spaziole delicate fate pian pianino pian pianino e non farete male al cane però è fondamentale perché il nodo quando il nodo è sulla pelle da molto tempo non fa respirare la cute sotto il nodo si può nascondere una dermatite un'infiammazione parassiti certo non so cosa c'è proprietari dei gatti voi principalmente se il gatto si riempie di nodo è un disastro lo dico per confermare è vero è vero noi parliamo di cani ma anche i gatti assolutamente perfetto altre cose che devono fare per esempio i peli in mezzo alle zampe cosa devono fare? allora il problema sempre dei peli quelli tra i polpastrelli che se i peli sono lunghi e ovviamente magari abbiamo la casa col parchèo determinati pavimenti il cane può scivolare allora tagliarlo è sempre pericoloso però quello che vi posso consigliare se avete non ditele ai vostri mariti se ci sono uomini ascolto pazientate utilizzate magari dei radari però non andate proprio a contatto state un po' alti ma niente se ne rimane un po' non mi andate vicino ai polpastrelli perché un taglio del polpastrello correre dal veterinario in questo periodo non è proprio la cosa più semplice anche se si può andare però è complicato magari giusto una regolata se proprio proprio è eccessivo se no aspettate perché spero spero di potervi dare come federazione una bella notizia e darvi una data di apertura noi aspettiamo i nostri ministri bene però sì ecco io sono contraria al fai da te a casa ma non perché lo deve fare per forza il tolettatore o il veterinario perché comunque ci vuole una competenza adesso loro vedono lei lei è brava però non tutti i cani sono fermi quindi la mia paura è che per tagliare del pelo vicino a un occhio del tagliare del pelo vicino a un polpastrello magari vado a fare un danno che è maggiore al fatto che il can abbia il pelo un po' lungo ecco la stessa identica cosa è per lo svuotamento delle ghiandole che spesso e volentieri ci chiedono come fare se non lo sai fare se non lo fa o un tolettatore professionista o un veterinario oltre a essere un'operazione estremamente pericolosa per la nostra incolumità proprio del naso perché ti schizza ti schizza fuori qualche cosa che ti butti via i vestiti perché non li pulisci più ma a parte questo anche riuscendo hai il rischio di fare veramente un grosso danno alle ghiandole quindi io tanto non succede nulla se non lo fate adesso o tra due settimane ricordo a tutti invece che se le ghiandole sono da svuotare troppo frequentemente anche qui significa che c'è un problema di base soprattutto alimentare quindi oppure una patologia quindi anche qui se le ghiandole sono spesso da svuotare controllate perché poi da essere spesso da svuotare possono diventare infiammate e quindi puoi creare dei problemi anche molto gravi quindi non toccate le ghiandole nel momento in cui andate dal vostro tolettatore vedrete che ve le svuota lui senza problemi vorrei dire una cosa permettimi Silvia per legge in teoria il tolettatore non può procedere con la spremitura delle ghiandole lo so che molti lo fanno e lo fanno per essere di supporto ai proprietari che ovviamente non sono capaci però io consiglio nel caso di un'infiammazione di un rigonfiamento proprio delle ghiandole stesse prima di rivolgersi sempre al veterinario perché adesso sono delle patologie a volte è alimentazione perché gli vengono allungate troppe cose da tavola anche io ho un cane di una mia amica che è stato male perché il padre non gli aveva detto che gli aveva dato una castagna una castagna su un maltese cosa ha combinato che infiammazione ha avuto questa cagnolina però in realtà dietro come hai detto tu si possono nascondere delle patologie molto importanti esatto vi mettiamo un articolo sull'argomento per farvi capire quanto gravi possono essere le patologie delle ghiandole perianali e del perché davvero se le ghiandole devono essere svuotate troppo frequentemente dove per troppo frequentemente io intendo più di 2-3 volte all'anno attenzione quindi magari lo fanno anche una volta ogni 2-3 mesi però farlo una volta ogni 2-3 mesi significa essere predisposti alla possibilità di avere un'infiammazione più frequentemente e quindi da qui diventa patologia quindi attenzione Cristina Sveva Ferradini Francesca ci chiedono il link per andare ad acquistare le spazzole magari ti possono contattare privatamente se preferisci io vi posso dare 2-3 dei link che utilizzo anch'io perfetto oppure se preferisci metti qui il link nei commenti non c'è nessun tipo di problema tanto non abbiamo mettiamo tutti i link perché adesso non riesco sì non adesso certo ma intendo più tardi se vuoi puoi anche metterli qui nei commenti non è un problema dunque Marco Ester dice io col mio barbone sto facendo un lavoro con l'educatrice purtroppo ho avuto un grosso cambiamento da quando abbiamo dovuto cambiare negozio di toilettatura per il cambio di casa quando percorriamo la strada per arrivare al negozio lo capisci subito inizia a tremare e a tratti fa la pipì vi ricordo quando era piccolo non ho mai visto un comportamento del genere devo dire che colui che lo toilettava prima era davvero capace pacato e molto dolce con lui era solo un cucciolo ma come dicevo da quando ci siamo spostati è stato un vero disastro la prima cosa che mi viene da dirti e da consigliarti che se il tuo cane da cucciolo che è il momento più delicato era tranquillo dal toilettatore ora che sta crescendo se hanno un po' di paure non vogliono entrare può succedere ma addirittura fare la pipì ascolta il tuo cane allora io ho cambiato casa io non so se hai cambiato regione o ti sei spostato di 10-15 km se ti sei spostato di un chilometraggio accettabile continuo ad andare dal vecchio toilettatore perché ti trovavi bene e può fare un lavoro di ritornare di ridare fiducia al cane sulla toilettatura e se no scrivimi in privato in che città ti trovi vedo se riesco a consigliarti qualcuno mi sembra assurdo un cambio di atteggiamento così importante ho cani che entravano in negozio e facevano le feste e altri cani che magari appena vedevano il negozio avevano le orecchie un po' indietro e dicevano cavolo oggi mi tocca ma da lì ad avere paura è un'altra cosa ci può essere il fatto mamma mi hai fregato mi hai detto che andavamo al parco ma non il terrore non farsi la pipì addosso non va bene soprattutto il terrore è brillante gioioso e la sua genetica è molto predisposta dell'autodettatura certo 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 quindi no va bene Erika Boscolo dice che il suo veterinario dice che se le ghiandole sono da svoltare ogni tre mesi va bene sì ogni tre mesi l'importante è che siano sempre comunque tenute sotto controllo e che non diventino infiammate che questo ogni tre mesi secondo me sono un po' tanto però ci può stare l'importante è che non ci sia un eccesso e che poi soprattutto queste ghiandole dovrebbero riuscire anche a svuotarsi da sole tendenzialmente se c'è una iperproduzione di liquido ci potrebbe essere anche un problema alimentare comunque sì ecco se il veterinario lo sta valutando come normale non c'è problema sono due anni Marco Ester sempre il barbone spaventato dopo ti scrive in privato si fa pipì addosso ed è a Napoli allora fra testa e comunque Marco Ester ti scrive in privato Francesca ha uno spizzo perdonami non posso non mi va di dire qualcosa preferisco in privato una questione del genere certo certo allora io ho uno spizzo volpino come posso aiutarla a non perdere il pelo la colla dai allora intanto hai comprato una razza che geneticamente è predisposta alla multa ai cambi di stagione quindi aiutare a non perdere il pelo è praticamente impossibile perché il cane ha una sorta di sottopelo che gli si crea in quantità molto importante in autunno perché si va verso l'inverno per tutelarsi dal freddo appena scoppia diciamo il caldo parliamo della primavera ovviamente c'è la fase della muta e tutto questo sottopelo il cane lo perde dovete spazzolarlo perché sennò può rimanere attaccato e lavato no c'è gente che utilizza degli integratori per aiutare a avere meno muta però vi dico la verità questi cani sono nati così cioè non si va contro la genetica cioè sono barzelletti sono soldi spesi inutilmente esistono razze che perdono il pelo il ragazzo di prima ha nominato il barbone il barbone non perde il pelo il baltese non perde il pelo che ha crescita continua lo schnauzzer e tutti i cani da stripping se regolarmente strippati non perdono pelo ci sono cani che purtroppo o perché hanno il pelo raso e hanno una tipologia di muta o perché sono appunto cani con il pelo e il sottopelo ovviamente lo perdono però queste cose bisogna informarsi prima adesso ti consiglio di spazzolarlo tutti i giorni esattamente si chiama olio di gomito non c'è magia si lavora esatto esatto ok Francesca io prima di tutto ti ringrazio perché come al solito sei stata preziosa a tutti quanti ricordo che martedì 5 faremo la stessa diretta ma rivolta allo Yorkshire con Anna Golino che è un'allevatrice esperta di York e ottima professionista Francesca se ci sei anche tu io ti invito così almeno facciamo una diretta in tre ci divertiamo magari la fai dal computer se preferisci che sei più comoda così almeno possiamo possiamo chiacchierare in tre e diamo un'ulteriore informazione ti ringrazio come al solito perché sei stata davvero preziosa mi raccomando metti il link della federazione nazionale così si può cercare i tuoi lettatori della federazione di dove si possono prendere le spazzole del tuo allevamento e della tua spoiler spoiler della tua nuova attività poi pian piano dopo la pandemia riusciremo a dare maggiori informazioni perfetto grazie infinite ancora una buonissima serata che meraviglia ciao grazie a tutti ciao ciao ciao